Filippo Lanza è una bellissima Italia. Bella, stiamo giocando bene, siamo contenti, adesso affronteremo la Turchia, sicuramente una squadra diversa da quella che abbiamo già affrontato, bisogna metterci la stessa voglia, la stessa grinta e soprattutto andare avanti con un unico obiettivo, quello di arrivare fino alla fine. Sacrificio e cuore per la Maglia Azzurra ed un percorso aggiustato gara dopo gara nella prima fase dell'Europeo in Polonia. Filippo Lanza trascina l'Italia che nella sfida secca degli ottavi ora non può più sbagliare se vuole andare avanti. Arrivati a questo punto tutte le squadre sono forti, tutte le squadre vogliono arrivare alla fine, dentro fuori ci piace perché ovviamente ci tempra e ci fa vedere quanto valiamo. Cinque sordienti, sette reduci dall'argento di Rio, la neo Italia del CT, Gian Lorenzo Blencini punta tutto sulla forza del gruppo. Una squadra che ha molti individualità ma che gioca soprattutto di squadra, che cresce ogni partita, che sa mettere quel tassello in più, una squadra che ha tanta voglia.